e quindi magari è davvero incredibile o magari è solamente un emule, un fan che la si chiama in questo modo Tato è il cono di Oda bellissimo meme che lo incontra Bulatexon di cui abbiamo visto, triomfante Exo per questa giornata Gregorius che è arrivato in top 8 contro Vince e Krazod contro Fabixson99 Krazod forte anche lui e ovviamente Fabixson invece è un outsider che comunque è arrivato fino a lì vediamo che se dovesse farcela sarebbe il primo nome di quelli non conosciuti effettivamente a fare il salto nella top 4 che appunto i punti aumentano parecchio da qui in avanti giustamente perché vai a premiare le vittorie più alte e alla fine ragazzi sì nel senso se non fosse ovvio c'è una classifica poi e solamente quelli più alti passeranno al bracket finale chiaramente quindi assicurarsi più punti in questi gironi è la cosa migliore oltre al piccolo premio che c'è alla fine di ogni singola giornata giustamente detto questo chi vorremmo vedere della prossima scena tosta se andiamo ad aspettare le semifinali credo ci aspetti un po' di off time perché non vedo ancora concluse le altre partite faccio un refresh in al bracket sia mai che abbiamo una partita fresca effettivamente sono ancora tutti impegnati il solo Exxonar ha finito il proprio match oh abbiamo notizia che si può andare a vedere Krazod contro Fabri per ammazzare il tempo così nell'attesa di vedere poi tutte le semifinali in ordine ricordiamo che per i quarti c'eravamo dato l'obiettivo di seguire una partita poi Exxonar Furat apparentemente hanno avuto la più veloce in assoluto e avremo quindi Krazod Fabri che è la parte bassa del bracket per intenderci il vincitore di questa serie va contro il vincitore tra Gregorius vediamo se Gregor andrà ancora avanti all'interno di questo bracket quindi cerchiamo di prendere i giocatori bloccarli lì se stanno finendo una partita o buttarci dentro non lo so faremo il possibile per darvi più action possibile e non i nostri brutti musi vediamo se riusciamo ad andare in game comunque in ora al meta per fare due parole è quello non si sono troppo allontanati da quello che è il meta da ladder mentre in altre edizioni abbiamo visto una bella differenza tra quello che era il meta da ladder ecco ricordo Giuranda sul quale scherzavamo essere un po' il meta slave quello che giocava sempre a prescindere i mazzi da ladder con tanti giocatori invece disposti a deviare per andare a giocare mazzi più da torneo invece qui probabilmente complice il power level altissimo i giocatori quello stanno giocando e non solo comunque questa fase che stai andando a giocare adesso non hai il banno che chieschiere i tre mazzi ma vuoi o non vuoi stanno giocando una giornata di ladder ragazzi quest'oggi mi aspetto questo estro che hai chiamato un po' tu prima magari alle fasi poi finali alle fasi più avanti dove sai chi sono gli altri sette oltre a te immagino sarà un bracket a 8 quello finale giustamente e una volta che lo sai sai chi ti aspetti sai che c'è quel bullet sai che c'è quell'exonarf e ti fai i tuoi due conti di chi devi andare a battere anche magari dal lato perché comunque sia ok lo scopo è arrivare ai primi ragazzi però se avete quattro giocatori che vanno tendenzialmente smorca dal vostro lato del bracket vi preparate una line up per gestire quel tipo di gameplay tanto per incominciare perché alla fine comunque rubare quella posizione in più è un torneo sta anche nella capacità di buildare la tua line up per rispondere e qui abbiamo un po' di mazzi particolari se vogliamo in particolare quello di Kradzod e si vede che arriva dalla mia chat un mazzo che abbiamo adorato per un po' di tempo shout out al signor Kava Itrusca che ha fatto una lista del genere insieme magari anche a Bon e alla sua cricca del suo ufficio con cui studiano l'Egenzo Fruneterra e un mazzo draghi antimeta con Zoe e Shyvana che se la cava estremamente bene body grossi con i draghi value con Targon e qualche risposta antipatica tra i combattiti di Demacia e i silenzi contro invece l'arci famoso l'arci demoniaco Zoe Nami invece che tra l'altro è partito con un buono start se non fosse che gli manca Nami e quando manca di Nami questo deck se la deve prendere con più calma in un matchup dove tra l'altro non se la cava tanto bene Zoe Nami ma addirittura questo mazzo fatto da cava come antimeta non ci vuole molto a capire ragazzi che se un mazzo è un antimeta contro il tier 0 del meta performa molto bene quindi non una mano geniale per questo ah tu la vedi così e tu invece no al contrario io la vedo che chi prova a counterare il tier 0 del meta tendenzialmente prende dei grandissimi grandi ecco che arriva Nami si si vede che Wolkat ha molta più esperienza di me nel casting si vede come proprio lui menziona un evento catastrofico e si verifica on the spot guarda non solo non solo ma anche l'essere stato ai tempi in cui facevo competizioni fuora living uno di quei illusi che provava a counterare tier 0 più quello molto più quello capisco capisco il giocatore che andava preso dai suoi senpai per la collottola ma che diamine stai facendo Wolkat gioca anche tu sto deck perché counter non esistono a meno non se vuoi andare a un torneo dall'altra parte del globo con il 51% di win rate su un mazzo che poi è forte contro tutto il resto del field ma questa è un'altra storia esatto e assolutamente i suoi senpai avrebbero fatto bene a frenderti a dirtelo perché potrebbe essere quello scenario in vano capisco potrebbe essere proprio quello scenario perché allora la board di namizoe è bella imbastita non ci sono ancora dei challenger in campo per kradzod che sono fondamentali per gestire appunto tutti quei pezzettini fin tanto che sono pezzettini e con questo passo si va a refill del mana su una board di namizoe piena di pezzi con nami e tutto il mana del t5 è pronto a rispondere certo c'è la cometa ma se tu al prossimo turno investi 6 mana in comet per andare a rimuovere nami che è una giocata più accettabile da parte di kradzod cioè non è che rischi succede sicuramente che l'avversario invece ti scarica tutto il parco di burst spell nella sua mano e va ad imbastirti una board gigantesca a quel punto quindi magari quella nami l'hai gestita però poi devi passare agli altri pezzi e la situazione non è delle migliori a quel punto certo inizia a farsi abbastanza wide questo board e devi lavorare con da quello che ho capito perché questo mi sembra mazzo molto homebrew come se c'è in gergo avrai buone stats condensate in relativamente pochi pezzi e questo non è esattamente il miglior la tua miglior arma contro un board di questo tipo che si sta sviluppando per Fabrikson certo arriverà la dichiarazione dell'obitrate molto buona grande sospetto di sollievo va giustamente speso quanto più possibile il numero di attivazioni dinami prima che questa lasci il board e direi che danno Fabrikson lo ha fatto per Crazzo che adesso si deve trovare a gestire un board bello largo e bello statato al momento però almeno ti sei tolto un arm sei molto contento e se sei Crazzo da adesso hai una piccola stretta al cuore perché noi sappiamo che quella nami è stata top deck nel momento migliore possibile però a tutti gli effetti non sai se ce n'è un'altra e se sei Crazzo non lo sai non sai se c'è Shelly che è appunto l'ammiraglio l'altro pezzaccio forte del deck di Fabrikson al momento non ci sono però il top deck è dietro l'angolo e se dovesse arrivare su una board del genere anche l'ammiraglio fa delle faville perché va a dare più uno più uno a tutta la board contemporaneamente ed è molto forte non arriva al momento ma comunque abbiamo una combat di tutto rispetto dall'altro di Fabri che penso non ci incischierà oltre esattamente e andrà a picchiare a questo punto grandi creazioni di combat pelle d'oca per Krazod che ha pochissimi bloccanti con i quali lavorare deve naturalmente spenderli nel modo più matematicamente efficiente possibile va a spendere Sharp Sight a questo punto penso per mettere il blocco su Zoe e così sarà passeranno comunque sei danni e quello della Solari è un champ block per definizione sul quick attack quindi va solo a prevenire danno senza nemmeno scalfire l'attaccante con Augment però devo dire parco carte in mano per Krazod bello ampio dovrebbe riuscire a bastire una remontata a questo punto si si potrebbe farcela sicuramente se tra l'altro qualche carta viene chancata adesso piano piano dalla board di 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 Fabrickson tipo già solo Lazio e appunto se ne sta andando piano piano potresti arrivare a rovesciare la partita quello fai quando hai dei body così grossi contro delle board wide Shyvana sta facendo anche danno e potrebbe evolversi una volta che si evolve ovviamente diventa pericolosa per una serie di motivi tra il fatto che dichiara delle bordate che a un certo punto non puoi ignorare e ti obbliga ad andare a perdere qualcuno dei tuoi pezzettini c'è anche poi il fatto che chiaramente va a generare quella spell gratuitamente ogni turno che può andare a minacciare un altro pezzo a farselo mangiare da uno dei draghi e qui Fabrickson dichiara danno faccio va per la direttissima è una partita ancora aperta vedo in un buono spot Krazod per recuperare ma tutti gli effetti come detto giustamente anche tu deve recuperare per ora ancora lui sui talloni ancora lui deve rimontare ciclo messenger è già in un buono spot ad esempio che aiuta parecchio però arriva anche Shelly dal lato di Fabrickson e quindi c'è anche la power play per l'avversario quindi la partita è ancora decisamente aperta arriva un challenger in board decide Krazod non va ad investire più mana del dovuto e ha fatto molto bene secondo me perché appunto la paura era proprio di questa Shelly Shelly che si può difendere usando il vigor presente nella mano di Fabrickson ma non basta a salvarla da quel concerted strike che è presente nella mano di Krazod si è tenuto sapientemente 5 mana da parte giustamente va a grabbare tra l'altro il 5-2 che è l'unico che che avrebbe tradotto Shelly in questo spot e se Shelly va off si evolve e quindi ti prendi questa piccola vittoria per questo turno tanto sei sicuro che con il le stili in mano sarà più difficile del previsto per Fabrickson buttare giù il Torexos sicuramente assortimento di armi di Aphelios davanti a Fabrickson che opta per il Gravitum se la vista non mi inganna con il concerted strike dichiarato su Shelly e va through ovviamente con tanto di level up più unico che raro di Shyvana eh già è già Shyvana ha avuto il suo spazio un pochettino in vari momenti mi ha accompagnato gentilmente alla mia prima qualifica alla top 32 del season al 4 mesi fa tra l'altro ha sempre avuto questa nicchia un po' di antimeta sempre con questo mazzo qui la versione Zoe Shyvana è quella un po' più rapida diciamo quella un po' più di valore spicciolo la versione con Aurelion Sol è quella un po' più bifi che punta al late game quello serio non si vede da un po' Aurelion Sol oramai counterato da un sacco delle carte nuove uscite ma questa versione mi piace è veramente accattivante mi sono abbastanza innamorato del Death di Grazo della prima volta che l'ho provato proprio perché performa bene contro un sacco di mazzi veramente solidi del meta attuale e non era facile secondo me craccare un meta del genere con appunto quelli che sono effettivamente degli antimeta e adesso vediamo proprio la potenza di questi draghi contro Zoe Nami che se non riesce a partire nel modo micidiale assoluto che peraltro questa parità più o meno lo ha visto perché AT3 ha fatto il double trouble AT4 ha sviluppato la Nami ha tirato tutto un parco di buff AT5 ma adesso ci sono una Shyvana evoluta un silenzio e un altro colpo coordinato che se dicono la loro minacciano ardentemente le tue chance di vittoria perché adesso come adesso qui Silence va a mangiare il primo elusivo troppo grosso che si azzarda a menarti Shyvana si può mangiare un pezzo gratuito ogni turno vai ad aggiungere magari un altro challenger adesso vai a invocare magari potresti dittare delle sisters sono dell'altro live steal e sui 6 di vita contro un mazzo che non spara stai abbastanza al sicuro a questo punto l'invoke a dare un po' di manforte a Fabricson che forse di manforte non ne avrebbe bisogno servirebbe decisamente un salvagente per Krazod che si trova ora a contestare una board molto larga e molto minacciosa con il solo blocco per tre pezzi quindi ecco l'aeronforte solare che arriva a dare una mano c'è il nuovo assortimento di armi con calibro messo a vero a disposizione per Fabricson tra i quali scegliere e arriva a schierare la farfallucciola dal deck sembra esserci una buona spinta è comunque un clock di tre turni anche solo con le farfallucciole e questa è una brutta notizia per Krazod che deve ancora avere a che fare con due pezzi molto grossi lo so questo è un grossissimo salvagente questo si è uno di due 5-4 lifesteal che davvero tendono un bastone verso Krazod che nelle sabbie mobili e stanno a spanno già già qua bravo Fabricson tra l'altro che appunto deve appendersi a questo salvagente dei lifesteal in questo turno assolutamente ma schierando pezzo va ad aprirsi a quella proprio quella come si chiama Gravitum che è stata creata prima e ha piantato Shyvana lì sul posto e in quel modo Shyvana non potrà generare la sua spell a costo 3 non potrà andare a rimuovere un pezzo gratis c'è l'invocazione di Krazod del turno precedente quella Falling Comet è proprio l'ideale per andare a gestire la prossima line o il prossimo Shelly che scende in board richiede tanto mana ma oramai a questi turni il mana ce l'hai gli 11 HP sono arrivati e Fabricson comincia ad avere finito la benzina ci sono le Sparkle Flyma i buff che avresti voluto mettere su quegli elusivi non sono mai arrivati addirittura c'è la Zoe per bloccare e adesso gira tutto abbastanza a favore per Krazod che oramai deve solo chiudere questa partita su cui ha già una diciamo una leva molto forte anche se ci sono dei altri peschini ha avuto pure sfortuna Fabricson con il Barbo che gli ha dato una delle carte peggiori in assoluto quel piragna quando giochi quella asfell ti metti in cima al mazzo una carta completamente illudita quindi quello che fa è a costo 1 bruciarti il top deck quindi non non proprio il meglio c'è un 9-3 quick attack che è bello antipatico addirittura in un momento di follia lo andrei quasi a silenziare io perché mi sta cominciando ad essere antipatico quel 9-3 però va bene anche c'è un bloccarlo andare a schierare un altro challenger e adesso piano piano impostare il beatdown e con Shyvana andare a portare a casa la partita penso sia quasi irrecuperabile adesso per Fabricson in un solo turno forgiasole e Zoe a bloccare ora con il dragostridente l'opportunità di andare a togliere altri pezzi elusivi uno lo blocchi l'altro lo vai a prendere tu direttamente con il challenger si si mette davvero davvero bene per Kratzod che remando remando alla fine è riuscito ad innalzare questa barricata devo dire Fabricson abbastanza sfortunato una sola nami dalla sua obliterata da carta generata dall'invoke con tanto di prossima nami già messa in check da un altro obliterate pronto per Kratzod o se un altro quello deve fare il mazzo di Kratzod neanche parlare troppo di sfortuna è un ampio assortimento di obliterate certo costano vai a fare trade negativo di mana però quando puoi puoi rifarti e puoi tornare in sella con i solari hai fatto la partita classica del contro dove vai basso stabilizzi recuperi punti vita e poi aggredisci con le tue win condition le win condition sono arrivate per Kratzod ha avuto una mano sicuramente più bilanciata di quella di Fabricson che avrebbe voluto vedere quella nami in più avrebbe voluto vedere quello shell in più proprio per andare a minacciare seriamente il suo avversario perché alla fin fine è sempre stato comunque su un edge di stabilità Kratzod abbastanza alto in un modo o nell'altro perché abbiamo visto che sì i suoi HP sono scesi fino a 6 ma c'era il doppio life steal c'erano i vari striker arriva un gorgo pesce e comunque arriva anche la spela 1 per andare a rubare qualche risorsa di quelle che sono state giocate da Kratzod ma penso che qui siamo appunto nello scenario in cui non ci sia molto da fare sono finite le risorse troppo in fretta per Fabricson perché ha dovuto giocare tutto un parco di spell per tenere in vita qualche pezzo e non ha preso il plusvalore incredibile micidiale che ti danno Nami o lo Shelly o entrambi una volta che li assembli assieme come lo chiamo io questo mazzo il mazzo Thanos e una volta che hai assemblato la farfalluccio la Nami la Zoe la Shelly schiocchi di vita e l'avversario e il suo Nexus spariscono praticamente non è stato questo il caso ma comunque questo è stato un turno spettacolare per Fabricson che veramente con due combattrichi in meno nella mano di Kratzod avevi imbastito un bello swing in questo turno però purtroppo vediamo che hai un colpo coordinato è ancora presente quel silenzio che peraltro potrebbe quasi andarsi ad investire sul 12-1 sta diventando quasi ridicolo oramai tankarsi questo pezzaccio e uh arriva una Pink Skate per Zoe quindi no ok quel 12-1 continuerà a fare Chamblock per la gioia di tutti i fan di questo pezzo Augment che non ho mai visto così grosso in una partita competitiva ma neanche per sbaglio veramente incredibile arriva Zap che è palesemente Jimmy Nutro un adolescente Jimmy Nutro che ha sperimentato un po' troppo e ci ha rimesso un braccio a un certo punto e l'ha dovuto rimpiazzare e arriva anche l'altro Lifesteal ok qua oramai è solo questione di tempo e la partita sia finita giustamente il blocco a provare a preservare almeno un elusivo stavo pensando alla possibilità di sì non c'è verso comunque lo stridente si prende ovviamente il pezzo che non può bloccare così Shyvana Shyvana sopravvive altra stack i fiori e il 5-4 non può che essere bloccato da un pezzo che lo lascia sopravvivere sì Krazod è assolutamente una botte di ferro a questo punto nemmeno il top dei dinami che non avrebbe comunque da far partire il motore aiuterebbe Fabrikson è una partita che si sta trascinando e l'intento counter di Krazod è arrivato a compimento già ce l'ha fatta appunto un mazzo molto particolare che per l'adderare se la cavicchia abbastanza bene anche contro Sion Raven grazie a tutte le col parco di cure di cui gode ha il modo di invocare le spell che annientano che rispondono estremamente bene a Sion ai silenzi e contro un amizzoe hai tutto quello che abbiamo visto hai challenger hai qualche cura e hai shivana che semplicemente è inarrestabile per il mazzo di Fabrikson il divario è stato abbastanza evidente in questa partita dove comunque Fabrikson ha visto una mano tendenzialmente buona in quasi ogni matchup e che la singola nami non basta hai bisogno di airollare parecchio se sei un amizzoe per portarti a casa questo matchup addirittura c'è una zoe che è prossima al level up nella board di Krazo ed oramai stiamo commentando solamente le possibilità delle possibilità non c'è non c'è appunto più molto da fare in questo spot di draw sharp state al top per andare a bloccare e niente complimenti a Krazo ti ha pilotato molto bene quel deck sono sicuro che me l'avesse visto giocare perché in combinazione proprio qualche giorno fa lo giocavo e lui era in chat dopo abbiamo fatto una 1v1 mi stupisce non l'abbiamo portato il suo leggendario Heimerdinger Lux che mi ha fatto vedere ieri siamo sfidati con questo magnifico mazzo sto scherzando non giocatelo ragazzi per l'amore del cielo Lux non è mai uscita su questo 1-0 per Krazo 1-0 1-0 e comunque oh vedi che chi la dura la vince chi crede nella possibilità di counterare il tier 0 o qualche colpo gobbolo mette è un po' un rischio tu magari hai anche preso un campione di partita abbastanza ampio da poter dire sì ho il win rate favorevole contro il tier 0 e hai sempre da dimostrare grande coraggio nel fare questo perché l'altro è un mazzo che se è tier 0 è perché ha buonissime percentuali di vittoria contro un field molto più ampio stavolta ci ha preso effettivamente comunque hai detto bene anche tu prima è un formato che rispecchia molto la ladder i giocatori non si conoscono devo lavorare in un ambiente open io stesso consiglio straconsiglio di andare ad affrontare i tornei open come se fossero ladder quindi con i migliori mazzi possibili e non cercare di uccire una lettura del field ad hoc e Krasnum invece l'ha voluto fare l'ha voluto fare e ha raccolto i frutti di questo raro che capiti ma bisogna essere meritato molto solida quella soluzione tra l'altro lo vediamo accopiato con un altro mazzo che non è super forte in ladder un po' si sta giocando è un mazzo che dice la sua spesso e il gps giovani che comunque anche lui ha una caratteristica vecchia conoscenza esatto è una vecchia conoscenza che ha fatto il dati aluno per il suo periodo e adesso a me almeno dà un feeling un po' di antimetà perché comunque sia ha questo modo di giocare molto ponderato molto sul rispondere con risposte tanto efficienti come quegli harpoon già presenti nella mano gp che fa sempre da win condition molto solida e in questo matchup tra l'altro ha anche se giovani che dalla sua può andare a zittire tutto il parco di elusivi che viene allestito in dichiarazioni di combat e quindi non se la cava sicuramente male detto questo la mano di fabrikson è veramente godlike adesso è veramente una delle mani migliori che ci sia l'unico modo purtroppo che ha adesso per togliersi di mana è andarsi a devolvere nami e sprecare con la pale cascade purtroppo è veramente l'unico neo di questa mano ma se vai a giocare zoe puoi prenderti un tempo di gioco in più per andare a vedere che fare e magari far scendere con la nami con più calma magari rispettare eventualmente degli harpoon e vedere cosa fare insomma secondo me qua non è banale nami zoe è un tier 0 è un mazzo che secondo me va nerfato cioè senza proprio di dubbio hands down va nerfato il suo gameplay però è un mazzo che fa pensare è un mazzo che non la ruba facilmente non è spesso la giocata è controintuitiva devi molto spesso fare dei passi assurdi dove ti perdi mana sul tuo avversario che magari ha giocato una carta perché tu vuoi recuperare dei turni hai bisogno di trovare le tue gemme dell'infinito è un mazzo che è veramente veramente strano dice la sua in condizioni molto particolari ruba le partite grazie alla combinazione di elusivi e targon è molto molto bello detto questo invece il mazzo di crazzot è un solidone che conosciamo tutti quanti mette 5 hit garantiti sui pezzi sul nexus in turni diversi e volvisi champion una volta messi in campo sono lo scappo matto di sejuani e gp assieme che non permettono praticamente più all'avversario né di attaccare né di sopravvivere ai prossimi 1-2 swing al massimo la partita è abbastanza equilibrata arriva una pelcascade per cercare il trade giustamente crazzot va a sfoltire la board di fabrikson per dargli un parco pezzi da buffare più piccolo però bisogna ricordare che namizoe da un certo punto di vista vuole avere pochi pezzi in questo matchup perché vuole avere giusto quei 1-2 sparkle fly da buffare all'inverosimile nei tuoi tanti pezzi namizoe tende a spalmare il potenziamento baffando sempre il pezzo più debole su board invece quando nei solo due sono entrambi elusivi diciamo che la musica cambia certo vuol dire sono turni in cui ha picchiato Tradsod e si è messo in condizione di far giocare nami sulla difensiva detto questo è un attimo che appunto Thanos si infila al guanto con tutte le gemme sopra e lo schiocco di dita è inarrestabile basta una farfalluccia la gigantesca per fare da bloccante che fulla il tuo Nexus da attaccante che fulla il tuo Nexus e sfascia quell'avversario tra l'altro esatto nel mentre tra l'altro essendo elusiva i danni su Nexus li porta quindi si è davvero un attimo che il game scivoli a Cradsod però se proprio devo immaginare una curva adatta per un mazzo beat down quindi basato sullo scurvare e menare come il GP Sejuani ci siamo Cradsod ha probabilmente hittato una delle migliori curve possibili che il mazzo possa esprimere e Fabrikson invece dalla sua piuttosto sfortunato perché a questo punto la sua mano aveva una piccola penuria di spell ma non l'avevo puntata come cosa perché a questo punto avendo visto tutti quei pezzi oramai prima o poi l'enorme parco spell del suo deck si sarebbe manifestato prima o poi invece ha continuato a vedere un sacco di problemi perché la seconda copia di zoo è la terza farfallucciola in mano che va anche a vanificare il meccanismo di generazione delle spell di Aphelios attraverso Crescendum sono diventati un pochettino pesantucci ora e se fossi Cradsod qui avrei dovrei cominciare a diciamo far funzionare nella mia testa l'idea che magari il mio avversario sta briccando dal lato delle spell che è una cosa rarissima di subito bricchi perché ne vedi troppe con questo mazzo è molto raro ma ora che vedo questa spell tiff lanciata delle carte inizialmente più deboli una domandina me la comincerei a fare quindi forse quell'artun vuoi devolverlo a Zoe addirittura per non andare a dare quelle spell adattivabili però in effetti forse è solo overthinking la verità è che vuoi andare a rimuovere quella nami toglierti un altro problema veramente grosso no caso decide di passare addirittura spell tiff che va ad eneablare la harpoon ha aspettato fino all'ultimo se li scambiano per togliere comunque l'attivazione a nami si mi aspettavo lo facesse prima della dichiarazione di combat per non rischiare ci fosse la super cool star chart in risposta all'harpoon però in effetti fabrickson aveva comunque un gp da gestire che si sarebbe evoluto in questo turno quindi parecchio pericoloso e giustamente lo spell tiff è andato a prendere l'harpoon bene la situazione è già abbastanza equilibrata la nami se ne è andata la penula di spell è ufficialmente finita grazie al alla super cool star chart che ha generato Zoe però adesso ti mancano le gemme dell'infinito più importanti che sono nami e la la shelly mancheranno i danni al tuo mazzo di questo mazzo rischi proprio di cadere vittima di quel beatdown che stavi evidenziando tu che ha aperto comunque bene in termini di botte cazzo ci sono sì le sparkle fly in bordo ma hanno solo uno di attacco e potrebbe non bastare qua un top deck di seggiuali di gp o siamo a turno 8 quindi anche un top deck di dreadway finirebbe la partita on the spot passa ora però il gettone dell'attacco a fabrickson che è imbastito una bella offensiva di elusivi ridendo e scherzando ridendo e sterminando diremmo noi visto che ora è una citazione del genere la dobbiamo fare sempre durante i nostri cast riprendiamo le buone abitudini perché sì qua sono tanti elusivi imbloccati imbloccabili se giuali non c'è per frizzarli e Crazzo dà un clock in due turni comunque giustamente sul suo nexus tocco giuda ricordiamo anche questa citazione dalle nostre card review una defiance che mi porto dietro da sempre che ancora oggi mi coi di sorpresa quando vedo il client in italiano ed è una bella mazzata sul nexus di Crazzo che significa anche un po' di respiro per fabrickson essendoci tre pezzi con lifesteal tocco guida che va anche a concretizzarsi per pranzod in una pescata di 2-2 se non ho visto male poi il piccolo spray fin a prendere lo sparo da zero l'attivatore per plunder per eccellenza tocco guida stavolta per fabrickson che gira jailbreak però non c'è spazio a terra probabilmente si deve accontentare di fare uno passo passo può spendere la star chart quindi in realtà infatti quella zoe è molto avanti con l'evoluzione infatti mi ha fatto un pochettino strano che fabrickson non abbia cercato magari il level up di zoe sulla combat l'open era molto buono ma non c'erano abbastanza spell a burst per andare ad evolvere quella zoe forse forse no non erano abbastanza evidentemente arriva tra l'altro qua la generazione delle spell di afeos appunto non ha più senso prendere il crescendo perché tutte e tre le sparkle sono state pescate da fabrickson però il calibrum dalla sua sono comunque tre danni che entrano rimuovono un pezzettino plausibilmente quello elusivo zoe si evolve quindi la sua potenza di di passiva oramai ce l'hai e dal prossimo turno sarà una festa con quel double trouble che potrebbe buttare chissà quali pezzi con chissà quali keyword che andranno sui tuoi qui se sei crudzod hai fretta di sicuramente andare a cercare delle risposte tipo quel hash che può assolutamente andare ad arginare uno dei tanti erosivi presenti sulla boda di fabrickson hai quell'harpoon che potrebbe infrangersi su zoe hai dei copte veramente micidiali quali gp è voluto se giovani è voluta pioggia di piombo not quite enough per rispondere al resto e adesso veramente ti basta poco per bloccare la lethal da questa combat anzi non era nemmeno lethal in dichiarazione sì infatti si sta contentando di mettere il messenger vuole preservare naturalmente tutti i suoi attaccanti elusivi fabrickson perché su di essi deve imbastire la proiezione di lethal non può perderli indispensabili tuttora che è stato pulito l'unico bloccante elusivo ovvero lo zap spray fin di crudzod e dovremmo esserci adesso la pioggia di piombo può andare a pulire il burger fish ma poca roba vabbè tra l'altro arriva il toro con 4-1 che va a dare sopraffare a tutta la bordo ok sugli elusivi magari non è così non è così utile però lui comunque è come 4-1 mena e fa porta del danno diretto anche lui a modo suo quindi cavolo qua se sei il fabrickson hai assolutamente i danni per pusciare la lethal a vista la verità è che invece non ce li hai qua bravo crudzod a tenersi l'arpuna non farsi ingolosire non farlo sul zoe nel turno prima perché ci sono un paio di carte che stanno facendo la muffa nella mano di fabrickson e se stai facendo un buon hand tracking sai che una di quelle potrebbe proprio essere zoe che nella sua versione flippata è abbastanza debole come carta invece se dovessi rimuovere la zoe a fabrickson e lasciare il posto per rimpiazzarla sarebbe peggio perché staresi dando valore effettivamente a una carta che hai in mano ma qui crezzo ti tiene in mano le sue risposte primo silence è andato off arriverà anche un harpoon per aiutarlo a stare in vita basta sono solo 7 hp 1 2 4 5 danni massimo anche secondo silence un altro trade arriva anche un amici train che hitta perfettamente il bersaglio migliore in assoluto non c'era per il cascade non c'è la risposta mamma mia sul filo del rasoio bravo Kradzod ha imbastito un bellissimo blocco una bellissima risposta può tornare zoe in campo per fabrikson deve ancora scontare con la povera shelly la presenza di un arpione di mostri in mano di Kradzod lo potrà fare posso premere ok e accettare le emozioni di questo importante pezzo c'è l'appoggio di zoe probabilmente no vuole prima vedere l'esito del jailbreak vediamo che sarà comunque solo keyword arriva il fear sono un pezzo già elusivo però vabbè l'elusivo è il meno perché tanto l'avrebbe potuto ridare alla sua board grazie a zoe a costo 1 e Kradzod ha visto un sacco di risposte buone ha retto abbastanza mi chiedevo proprio se arrivasse finalmente il top che gli dava la possibilità di giudere la partita perché diciamocelo quando hai difeso così tanto con quel deck è arrivato questa bordata da parte degli elusivi alla fine hai sviluppato triplo harpoon su dei pezzi veramente forti quali doppi ascelli e enami forse un po' te la meritavi la sejuani ti meritavi lei o il gt che andavano a chiudere ma dalla sua fabrikson bravissimo a prendere lo stun a evidenziare quella come unica win condition on the spot per il turno e adesso d'accordo sejuani è in board ma riesce ad attivarla sulla prossima combat che potrebbe ucciderti who knows who knows questo stordimento è veramente clutch per fabrikson era qualche turno che si ittava in mano ma probabilmente lo stesso fabrikson sapeva che l'avrebbe dovuto spendere presto tardi su un gp su una sejuani e così è stato ora sconta un'ottima combat comunque dalla propria prospettiva fabrikson che sopravviverà a questo attacco c'è da spendere ancora una rimozione su zoe no 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 perché il branco perché il branco così fabrikson penso abbia scambiato quella carta per un'altra si è andato a bloccare il top deck quando invece avrebbe potuto non lo so top deckare una fake cascade era sino immobilita non c'era modo per crazzo di andare a bloccare il tutto questo è il memino dell'omino che si mette il bastone nella bicicletta da solo un pochettino si era che aveva verosimilmente perso fabrikson era veramente difficile c'era anche la magia per flanderare avrebbe pescato dooni avrebbe pescato dooni dell'aldilà che poteva dargli no attenzione un altro scivolone di un giocatore poteva prendere ah il top deck c'era ancora la possibilità per crazzard con la rengie bastone nella bicicletta ah riot maledetta no dai succede può essere anche la pressure del primo featured match può essere anche la pressione del esserti ritrovato in mano una carta di un archetipo che non tocchi mai sono tanti motivi che possono aver portato questo scivolone senz'altro non è mai corretto rovinarti il top deck in un mazzo che comunque in qualche modo ne va a attingere dalla pelca schede all'armidia felios sono i primi che mi vengono in mente forse non sono gli unici quindi si si può parlare tranquillamente di uno scivolone uno scivolone che è costato carissimo non era l'ital garantita ma senz'altro si è peggiorato le odds di pescare una possibile l'italia se le azzerate se le azzerate letteralmente se le azzerate quel pesce esatto non aveva niente da fare niente da dire in quello spot è stata magari una tilt play nel momento in cui si è visto la Zoe rimuovere si è detto ok non lo ammazzo più l'avversario però c'è addirittura Speltif che hitta la Mickey Train dell'avversario il warning shot e hai quel danno extra cioè in qualche modo per arraffarti la partita ce l'avevi peccato 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 davvero andiamo a vedere abbiamo semifinalisti abbiamo Shanghai versus Exxonar nella parte alta del bracket e Krazod che si è appena promosso semifinalista e andrà a prendersi una partita contro Vince che è uscito infine vincitore da Gregorius ahimè Greg il mio pupillo lascia la competizione così come no non è vero quello di solo è ancora vivo quindi mi rivalisco uno dei gufi più arcigni della scena italiana peccato peccato davvero per Greg poteva essere già un bel debutto all'insegna di una raccoglione